Mr. Olimpia 2023, io ero lì e molti di voi mi avete chiesto di fare un video su che cosa ne pensassi della gara, del vincitore, quanto mi è costato il viaggio quindi ho deciso per parlarvi in generale di questo evento di fare un video lungo allora, premetto che i primi giorni ad Orlando quando sono arrivato ho fatto tutt'altro che pensare al bodybuilding, ho visto gli studios, ho visto la città, mi sono divertito sulle montagne russe il venerdì sera c'era il Meet the Athletes, cioè sotto il palco dove appunto si sarebbe svolto l'Olimpia, gli atleti stavano lì per farle foto con i fan, vi dico già che per fare la foto con Bumstead ci volevano tre ore di fila e con Ramondino circa un'ora e mezzo o due, quindi ho lasciato stare sono riuscito come state vedendo da vari video che scorrono a vederli da vicino e ad apprezzare la loro fisicità ma non a farci la foto, la domenica pomeriggio sono stato all'expo dove ho visto nuovamente gli atleti e in più tantissimi altri influencer internazionali, come vedete qui abbiamo che green, ho visto dal vivo Ronnie Coleman, adesso sfortunatamente non è più enorme come ai tempi d'oro in ogni caso averlo davanti crea sempre un certo stupore, in quel caso per fare una foto con lui ci volevano 20 dollari e tre ore di fila, quindi anche in questo caso ho evitato comunque ho incontrato tanti altri personaggi come questo coreano che non ricordo il nome che ha partecipato a Physical da 100 a 1, quella serie tv Netflix diciamo che per fare la foto con gli influencer più famosi dovevo aspettare ore e ore e ore quindi ho evitato, mi sono goduto l'expo e la sera ho visto la gara allora bikini e mefisic belli ma non mi interessa parlare dei video anche perché non mi eccita tanto parlarne, per quanto riguarda la categoria classica vi devo dire che è uno show puro quando è entrato Bumstead tutto il pubblico in sala è esploso in un urlo, sembrava di essere lo stadio stessa cosa un pochino meno per Ramondino e quando c'era il confronto tra i due si sentiva proprio le grida di tifo da tutta la sala sembrava come ho già detto di essere una partita di calcio o comunque una partita di qualsiasi altro sport e questo è davvero bello perché in Italia io sono stato a vedere gare molto importanti della Pro League anche gare pro ma in sala oltre due urli dell'amico del coach non si sentiva nessuno invece lì ci sono proprio le persone che fanno il tifo per i vari atleti stessa cosa per la categoria Open ogni atleta aveva il proprio tifo persone addirittura con gli cartelloni oppure mi sono scordato di dirvi che in sala c'erano dei ragazzi con il palloncino a forma di T-Rex proprio per tifare Ramondino Ramondino non so se lo sapevate in ogni caso l'esperienza è stata fantastica e la vittoria come sapete per la categoria classica è stata di Chris Bumstead veritatissima assolutamente niente da aggiungere perché realmente Bumstead è superiore e per la categoria Open ha vinto Derek e mi avete chiesto Leo dici che cosa ne pensi ho già fatto un video breve anche perché adesso i video brevi sono quelli che vanno di più rispetto a queste lunghi ma in ogni caso voglio approfondire qui la cosa sul front Derek era nettamente inferiore rispetto a Eddie Chopin ma molto molto nettamente inferiore soprattutto per quanto riguarda le rotondità muscolari e la definizione l'addome di Eddie Derek se lo sogna quando i due atleti si sono girati di schiena sono sincero Derek mi ha impressionato molto di più soprattutto nella parte bassa della schiena e dei glutei ma in ogni caso anche Eddie era molto in forma quindi chi si meritava di vincere? se vi devo dare un giudizio personale e soggettivo Derek perché a me piace di più se vi devo dare un giudizio oggettivo Eddie sono sincero sì perché considerando tutti i vari punti dei due atleti a punteggio secondo me avrebbe vinto Eddie Chopin in ogni caso il perché abbia vinto Derek rimane forse un mistero oppure i giudici hanno visto qualcosa in più rispetto a me che io non sono un giudice di gara e quindi io posso solo alzare le mani e darlo a mia opinione in ogni caso il discorso politico all'interno delle grandi bodybuilding c'è sempre stato e c'è tuttora non voglio soffermarmi troppo specificatamente su questa cosa perché non fa parte del mio personaggio web e soprattutto penso di non aver neanche delle conoscenze adatte per potervi dare un'opinione chiara, netta e oggettiva e penso che queste competenze non ce l'ha quasi nessuno infatti molti canali ne stanno parlando ma pochi dicono la realtà quindi Mistro Olimpia, esperienza assolutamente da fare io ve lo consiglio con tutto il cuore se amate veramente il bodybuilding dovete andare a vedere almeno una volta l'Olimpia nella vostra vita perché se non lo fate vuol dire che non vi piace realmente no a parte gli scherzi è fattibile andarci, è fattibile mi avete chiesto Leo quanto costa, quanto è cacciato per andare a vedere la gara allora vi dico tutto facendo un conto totale tra volo e vi dico il volo è stata una tortura perché tra volo in ritardo, scali troppo brevi e quindi ho fatto cardio per arrivare da un gate all'altro per prendere il volo successivo vi dico che ci vogliono circa 1.500-2.000 euro a testa tra volo, hotel, cibo, star lì e far poco e niente se iniziate a vedere i vari parchi come ho fatto io considerate che un giorno agli studios per vederli quasi tutti ho speso quasi 200 euro a testa, non sono pochi per quanto riguarda il costo medio della vita, quindi quanto costa mangiare, bere spostarsi con i mezzi a Orlando i mezzi pubblici sono davvero molto pochi io utilizzavo o i taxi, cosa che ho fatto solo una volta perché sono carissimi oppure Lyft, cioè un'applicazione tipo Uber che ti consente di spostarti chiamando il tuo autista e costa poco comunque i prezzi sono abbastanza della media considerate che un pasto costa dai 20 ai 30 dollari a testa mangiando il giusto, ok? invece per quanto riguarda gli spostamenti considerate per arrivare all'Olimpia e tornare io spendevo circa 15 dollari ho provato anche ad andare a cercare i vari atleti nelle palestre della zona c'era una palestra molto famosa che si chiamava Kiss Me Muscle sono entrato, mi hanno chiesto solo per un giorno 50 dollari ci ho pensato un pochino, sono entrato dentro, ho fatto un giro ho visto che non c'era nessun atleta perché mi sono accorto che erano tutti a fare l'iscrizione, la pesa per la gara quindi gli ho preso, ho girato il culo e sono andato via e non gli ho regalato 50 dollari anche perché mi sembrano troppi per entrare in una palestra in ogni caso vi consiglio di fare questa esperienza il prossimo anno sarà a Las Vegas e forse ci tornerò anche io ragazzi questo è l'inizio di una nuova serie di video lunghi che metterò sul canale dopo una lunga pausa perché ormai i video brevi come ho già detto sono quelli lì che funzionano di più ma io voglio tornare a fare i video lunghi porterò di nuovo video di allenamento il prossimo video molto probabilmente sarà dei miei ragazzi che ho portato in gara il mese scorso se io non ho fatto nessun video perché ho procrastinato troppo e poi come ho già detto porterò video di allenamento dove vi farò vedere diverse cose va bene? ragazzi come sempre like, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti